Un tizio verso le sette di sera entra dentro un bar, è già un po' sbronzo, un po' articcio, e chiede un bicchiere di whisky. Questo gli lascia un bicchiere, questo si mette là, comincia a beve un po' di whisky, a un certo punto entra nei fili del proprietario, due gemelli, ma uguali, due gocce d'acqua, no? Allora questo che fai? Gli guarda, poi se guarda il bicchiere. Gli riguarda se riguarda il bicchiere. Allora il proprietario, il barista gli fa, no, guarda, può beve tranquillo, sono gemelli. Lui riguarda il bicchiere, ammazza, tutte e quattro. Lui riguarda il bicchiere.